Con Giulia accorgiamo nella nostra comunità una nuova presa, una nuova figlia di Dio. Vi domandiamo ai genitori quale nome hanno scelto per la bambina. Sala di Dio, io dibattendo le nuove del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Sala di Dio Sala di Dio E il Padre, il Figlio e dello Spirito Santo, amico. Sala di Dio